Il 27 settembre nel nostro ufficio di San Vincenzo abbiamo ospitato un evento esclusivo targato CRS NAR Global dedicato a temi cruciali come l'edica professionale e le strategie per attirare investitori internazionali interessati alla nostra meravigliosa zona. Cari colleghe, cari colleghi, un caro saluto a tutti. Quando Nello D'Angelo che saluto mi ha proposto, mi ha chiesto se avesse avuto piacere di farvi un saluto ho accettato subito molto molto volentieri. Con quasi dieci anni di certificazioni internazionali, la nostra agenzia è stata orgogliosa di accogliere alcuni dei più influenti professionisti del settore immobiliare globale. pronti a condividere esperienze e visioni per continuare a migliorare il nostro lavoro. Ines Hegedus-Garcia e sono la Presidenta del 2023 del Miami Realtors, la asociazione local del Realtors all over the world. I'm very excited. Thank you for the invitation, Mary. I think this is a great initiative. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. a Grazie a tutti